Scusate, ci avevano detto che questa storia finiva prima. Sono già dei mesi. E c'è succede? Non si capisce. Tu non devi capire niente. Voi meno pensate, meno cazzate fate. Va bene o no? Chiedere il suo tempo. Ci vuole il suo tempo. Chiedere il sei mesi. Ci vogliono sei mesi. Che sei mesi? Sì, sei mesi, un anno, quello che ci vuole. Sì, non c'è un cazzo che hai per un anno. Scusate, ma perché non ci dicono niente? Tu non devi sapere niente. Vi alter, gavì du mal, detenì, nascosta il piede. Va bene o no? Tenere nascosto il bambino. Va bene? E stare calmi. Avete fatto una cazzata dietro l'altra. Questo qua è il più rimbambito di tutti. Ve l'ho detto, non siete capaci, non siete capaci. Ma ma da sta calma. Da sta calma. Ma che calma? Quelli non pagano. Dici che hai cartuccio, non ci finiscono i soldi dal culo. Va a tenere, tutto puttanato. Te taci, te taci. Che te sei peggio di tutti qua. E sai perché? Perché pensi? Io? Sì. Affanculo, va. Il grande esperto del mio cazzo. Tu sei un deficiente. Ecco cosa sei, te lo dico io.